buongiorno amici buongiorno amiche oggi abbiamo un display bello grande di ottima fattura dal nome che richiama vagamente il dialetto napolitano mi ha fatto notare l'amico max recensioni con l'omonimo canale youtube e oggi andiamo a vederlo questo display a cosa serve serve un per quelle automobili o magari anche camper che hanno una radio un po' datata vogliono portare android auto nel proprio nel proprio veicolo e con essa le funzioni che possono essere anche quella di maps eccetera in confezione c'è un manuale ben fatto anche in italiano è scritto bello grande non bisogna mettere gli occhiali come di solito succede con questi manuali scritti minuscoli questo è scritto bene chiaro ed è anche in italiano in questo momento sta funzionando android auto wireless perché ho collegato lo smartphone al display allora sopra c'è il pulsante power qui c'è l'incastro per i vari supporti con cui può essere attaccata la vostra automobile supporti sia adesivi che con ventosa qui c'è la bellissima dash cam che tra le altre cose è leggermente regolabile poi vediamo insieme da questo lato c'è la usb c per alimentarlo c'è la micro sd e l'uscita per la retrocamera e l'audio maschio di qua non c'è niente sotto non c'è niente la plastica è molto solida e di buona di buona qualità non è non fa un suono chip anzi è un suono come ripeto di buona di buona qualità in questo momento io ho in riproduzione android auto ma adesso usciamo e andiamo a quella che è la schermata principale del nostro display ecco qua questa è la schermata principale ottimi colori ottima luminosità veramente una buona un buon pannello attenti che questo non è sempre così ho visto dei display con delle qualità schifose questo invece ha una ottima qualità diamo un'occhiata insieme alle impostazioni vedete sono impostazioni che abbiamo già visto anche in altri in altri box lingua italiana abbastanza veloce lo scorrimento tra i vari le varie schermate potete ascoltare la musica in riproduzione sullo smartphone essa potrà essere poi ascoltata anche in in background qui è molto importante perché molti mi chiedono ma questo display poi io come ascolto la musica di spotify o le indicazioni del navigatore le potete ascoltare attraverso lo speaker integrato di buona qualità attraverso il bluetooth però chiaramente la vostra route la vostra automobile deve essere dotata di un'uscita bluetooth oppure alcuni ad esempio mettono una cassa bluetooth in automobile in quel caso collegano il display alla cassa bluetooth e avranno sicuramente una buona una buona soluzione audio ma se avete la radio bluetooth è meglio ancora questa è la soluzione radio fm cioè voi settate nella vostra radio fm il canale 106 o un canale a vostra scelta lo stesso canale lo dovete poi settare qui sul display e avrete potrete ascoltare quello che fa quello che fa quello che l'audio presente nel display lo potrete ascoltare nelle casse dell'automobile oppure c'è l'uscita fisica maschio maschio con il cavo in dotazione il cavo audio e quella lì anche è sicuramente sicuramente utile ma un pochino un pochino più scomoda in confezione ci sono varie cosette che adesso vi faccio vedere comincio dalla soluzione a ventosa per attaccarlo al al vetro anche qui la plastica è di buona qualità e in confezione insieme a lui troviamo anche invece la soluzione per attaccarlo adesivamente o con delle viti al al cruscotto qui c'è una plastica buona sempre di buona qualità leggermente morbida che quindi si adatta al cruscotto e permette di attaccarlo senza senza difetti poi sempre in confezione abbiamo un'ottima retrocamera che io non ho non ho utilizzato ma vedo che il cavo è molto molto lungo e anche il touch and fill della retrocamera è molto positivo questa qui va attaccata chiaramente al al display per far funzionare la la retrocamera non è finita sempre in confezione abbiamo se volete se volete appunto sempre attaccarlo o c'è anche questo e come vi dicevo c'è il cavio il cavo maschio maschio se volete fare la soluzione quella fisica per l'uscita audio guardate c'è anche l'attrezzo per alzare eventualmente le plastiche della radio o comunque dell'auto senza rovinarle per far passare il cavo ma questa è una soluzione non obbligatoria ma facoltativa che potete fare o non fare quindi alla retrocamera alla dashcam android auto è perfetto no perché ad esempio non hai play store molti di voi piace vedere youtube in movimento piace vedere netflix con questo con questo display non lo potete fare però chiaramente i display che hanno quelle funzioni hanno anche un prezzo doppio rispetto a questo qua della lam tt o come cappero si pronuncia quindi una scelta che voi dovete fare dovete fare voi la la videocamera anzi la dashcam eccola qua in questo momento io ho lasciato la protezione ma poi potete la dovete chiaramente togliere e ad alta risoluzione il tutto viene salvato nella sd che abbiamo visto abbiamo visto c'è il apposito vano qua lateralmente quindi in conclusione un display che ha un buon pannello retrocamera dashcam android auto un prezzo d'attacco e molti accessori assolutamente mi sento di consigliarlo non è una scelta una scelta errata anzi se però per forza volete in automobile android volete in automobile youtube in movimento o volete in automobile netflix allora vi dovete affidare ad altri prodotti e che ho recensito sempre in questo in questo canale andate a vedere gli ultimi video li trovate ma i prezzi sono diversi quindi lui a qualità costruttiva lui a qualità del display il software è semplice e veloce quindi mi lascia non non vedo problemi all'acquisto vi metterò in descrizione il link e ci vediamo presto per dei nuovi dei nuovi video se avete delle domande chiaramente potete farle nel box dei commenti ciao a tutti